Estate all'insegna dell'amore per Giorgio Panariello, 56 anni Paparazzato a Forte dei Marmi, l'attore toscano si gode le vacanze insieme alla compagna Claudia Maria Cappellini e il settimanale nuovo ad immortalare la coppia, aggiungendo che i due sarebbero pronti alle nozze Accanto alla modella cremonese conosciuta un anno fa, il comico ricarica le pile prima di cominciare una stagione professionale piena di impegni, che lo vedrà di nuovo protagonista in teatro con lo show interpretato insieme agli amici e colleghi Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni Claudia è bellissima nel suo bikini floreale Capelli neri, labbra carnose e fisico scolpito, è considerata da molti una sosia della showgirl argentina Belen Rodriguez in virtù della sua avvenenza Un fascino che avrebbe fatto capitolare lo scapolo d'oro del cinema italiano Tra i due la differenza d'età non pena, di fronte alle chiacchiere sfoggiano la migliore delle risposte, il sorriso Non solo La vacanza toscana avrebbe il sapore di una luna di meri Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, Panariello sarebbe intenzionato a portare all'altare la giovane compagna L'attore starebbe per gettare la spugna e seguire l'esempio dell'amico fraterno Carlo Conti che, a 50 anni, ha deciso di metter su famiglia No, 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 no